Radio Ucifocus La procedura permette anche di scegliere che l'importo venga pagato al 100% solo al richiedente che però deve dichiarare che la modalità di ripartizione del beneficio è stata decisa di comune accordo con l'altro genitore. Nello specifico il pagamento viene effettuato in misura intera se il genitore richiedente seleziona tale opzione nel modello di domanda. I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e in questo caso il pagamento al 50% al secondo genitore sarà eseguito dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all'Inps. Nel caso di minore in affidamento temporaneo o preadottivo bisogna distinguere l'affido esclusivo o uno soltanto dei genitori da quello condiviso ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Nel caso di affidamento esclusivo la regola generale prevede il pagamento per intero al genitore affidatario. Per l'affidamento condiviso invece si può optare per il pagamento ripartito al 50%. In ogni caso il secondo genitore ha comunque la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali. Infine può verificarsi l'ipotesi in cui nonostante l'affidamento condiviso del minore un giudice tramite provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In questa ipotesi è possibile optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario e resta la possibilità per l'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo scegliendo il pagamento ripartito al 50%. E da Giulia Cassone tutto al prossimo Focus. E da Giulia Cassone tutto al 100% 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 al 100%.